ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un unboxing eccoci qua come ogni tanto accade mi premuro di procurare un qualche orologio entry lever no da portare sul canale come funziona voi ormai siete abituati chi non lo sa lo spiego cioè acquisto un orologio possibilmente entry lever faccio un unboxing qua insieme a voi per vedere un po a sorpresa come mi risulta visivamente e poi dopo subito dopo faccio la recensione dettagliata con le immagini con le specifiche così non dovete aspettare l'unboxing e dopo qualche settimana giorno la recensione vera e propria no sarebbe un contenuto doppio che non ha senso una volta che lo apro voi per voi sarà come un video unico invece per me sarà passerà qualche giorno in cui lo testo lo provo come funziona di solito io questi orologini qua riesco a prenderli con i buoni amazon questo mese buono amazon non c'è quindi ci ho messo i soldini io il buon davide ha pagato aperto il portafoglio ha preso l'orologio per amor della scienza almeno siamo tutti contenti poi magari lo rivendo qualcosa ci recuperano in percentuale un 75 per cento di quello che lo speso ci recupero però almeno testo provo tocco con mano assaggio un orologio è un po entrile perché poi fa piacere a tutti quando si trovano qualche orologio qualche orologio sotto i sei i 200 euro questo qua costa meno di 200 euro 150 160 giudili so già qual è il punto debole dell'orologio lo so già ancora prima di acquistarlo lo sapevo però a qualcuno potrebbe piacere oppure potrebbe anche rivelarsi una sorpresa al polso insomma un punto debole c'è comunque andiamo a vedere io direi di ah no vabbè l'orologio del giorno lo faccio vedere dalla camera qua eccolo qua il mio bellissimo long jean spirit 40 mm di diametro cassa molto simpatico quadrante blu calibro l888 certificato cost super sportivo resistente infatti lo usiamo qua per l'unboxing così se scappa il coltello e va verso l'orologio lui non si fa niente perché il long jean spirit resiste anche ai tagli di orologio via bando alle ciance diciamo e iniziamo con l'unboxing l'unboxing più veloce del mondo d'altro mondo di questi pacchi qua no l'unboxing non è finito non c'è più niente scatola scatolame scatolino via come al solito questo simpatico sacchetto ah di quelli apribili così non serve nemmeno il super coltello esce fuori questo piccolissimo pacchetto bianco mamma mia veramente qua siamo al chip dello scatolame comunque d'altro mondo il prezzo è questo che via scatola è la rovescia qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua via la scatola librettino delle istruzioncine facciamo che ci mettiamo gli occhiali che forse è meglio cosa dice librettino delle garanzia in bianco ma come al solito quando pigli da amazon secco 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 gruppo secco ma non è un secco non c'è niente ed eccolo qua il lorus questo è un orologio che è uscito una serie di orologi modelli che sono usciti recentissimamente in diverse versioni in diverse fogge ce n'è anche una con la diciamo lunetta pepsi e vanno a riprendere le fogge del secco 6139 della serie secco di quegli anni lì degli anni 70 e la particolarità che è bello esteticamente cioè una bella idea quella di andare a riprendere la forma cassa il quadrante la lunetta così no adesso facciamo un po di spellicolamento eccolo qua spellicolato simpaticamente spellicolato alla facciaccia vostra questo bellissimo l'horus adesso se cosa facciamo ma c'è anche la pellicola dietro ci mettiamo gli occhiali super potenti per vedere se è tutto dritto perché già con secco non si sa mai no e figuriamoci con col figlio cattivo l'horus se non viene fuori qualcosa di storto no sembra tutto dritto qua ragazzi direi che ci siamo dai bracciale mamma mia però è quel simile giubili bello è quel simile giubili no che dai del secco s kx quando è scrauso ma talmente scrauso che diventa bello ci piacciono queste cose così il gusto dell'orrido ha sempre il suo perché eccolo qua bracciale questo qua bello simile giubili allora calibro nh35 clasp di quelle da buttare via però è il suo punto debole quale ragazzi è bello è bello riprende le linee classiche di una volta al sua la sua cassa tonneau diciamo no a cuscino bello ma è 43 mm di diametro quindi diciamo che la prova al polso è quella che no che potrebbe anche diciamo è grosso è grosso è grosso ma non è impossibile ora qua è un pochino larghino dietro è grosso ma non è impossibile a chi piace gli orologi di presenza poi su un polso come il mio non sta nemmeno malissimo malissimo non è che sta malissimo malissimo dai è grosso è grosso ma non è brutto dai vando alle ciance adesso facciamo così che io mi prendo qualche giorno per testarlo voi vedrete il test subito dopo questa presentazione quindi giriamo la camera e guardiamo l'orologio diamo un veloce sguardo ai risultati ottenuti a seguito delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 42.9 mm in gombo trasversale al polso 49.9 spessore 12.4 e interasse ansa da 22 mm misura importanti ad eccezione dello spessore che risulta essere nella norma è chiaro che l'horus ha deciso di allontanarsi dalle proporzioni proprie dei modelli seco a cui si ispira e a parer mio potrebbe essere un errore i cronografi 6139 e 6138 a cui strizza l'occhio sono da 40 mm e restituiscono una indossabilità che oserei definire elegante e classica qui ci troviamo di fronte ad un orologio che punta ad avere l'aspetto sovradimensionato di certi diver moderni senza però essere un diver sì ok l'impermeabilità dichiarata è di 100 metri ottimo parametro che consente un utilizzo spensierato anche in acqua ma non è un orologio da sub e non necessita di essere così vistoso su di un polso da 19 centimetri come il mio non sta neanche troppo male è solo questione di abitudine ma ho i miei dubbi che possa essere apprezzato da chi ha un polso più contenuto siccome i gusti sono però personali ci sarà sicuramente chi troverà in queste dimensioni la propria comfort zone questo è poco ma sicuro stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un design tipico degli anni 70 cassa a botte con anse cortissime ed inclinate verso il basso molto piacevole l'effetto ottico che si ottiene al passaggio della superficie superiore satinata con quella lucida delle anse va a mettere in risalto l'inclinazione di queste ultime e soprattutto definisce maggiormente quella linea arcuata che separa due piani distinti della parte superiore questo è sicuramente un bel colpo di design osservandolo poi lateralmente possiamo scorgere alcuni elementi separati che vanno a comporre l'altezza del profilo una carur lucida sagomata che tende geometricamente a sfinare verso il fondello che a sua volta pare essere a filo cassa e non influire più di tanto sullo spessore generale c'è poi la lunetta che più che essere tale ci appare come una torretta costruita sulla cassa stessa è infatti relativamente alta ed ha il compito di inglobare il vetro minerale che essendo piatto necessita di una struttura laterale piuttosto voluminosa questa soluzione ricorda molto gli anni 70 anche perché non vi è alcuna zigrinatura di sorta non si tratta di una ghiera girevole ma di una lunetta fissa sulla quale i numeri hanno semplicemente lo scopo di riportare i minuti dell'orario che si andrà a leggere in generale si tratta di un design gradevole e di finiture tutto sommato sufficienti in questo mi ricorda i 6q5 di vecchia generazione che pur essendo entry level hanno una buona qualità generale a mio parere l'horus e non solo con questo modello sta andando ad affiancare e magari un giorno sostituire del tutto proprio quei modelli di 6q5 lasciando ai nuovi 6q5 sport il compito di tramandare la specie ed esattamente come in quegli orologi anche qui troviamo il calibro 7s 26 il minimo sindacale dell'orologeria meccanica attenzione che qui viene denominato y676 in quanto viene realizzato dalla tmi ossia la sussidiaria di seico che si occupa dei calibri per terze parti noterete la pochezza di rifiniture e la povertà dei materiali si notano anche dei graffi qua e là insomma siamo veramente al meccanismo base che più base non si può è sottinteso che non vi è la possibilità di carica manuale opzionale nello stop dei secondi a corona estratta insomma esattamente come 6q5 dannata una nota di demerito per il fondello in quanto l'effetto ciambella è veramente accentuato meglio un fondello chiuso in tutto e per tutto il discorso cambia quando si passa al quadrante da sempre punto forte dei 6q5 e a questo punto anche dei loro smoderni un piacevole blu profondo con finitura soleil che reagisce alla luce emanando quei riflessi radiali che abbiamo ormai imparato a conoscere sfere di indici bianchi a contrasto poi riescono a garantire un'eccellente leggibilità così come è ben visibile la sfera dei secondi che con quella tonalità arancione raviva alquanto lo spirito dell'orologio si nota anche una certa tridimensionalità anche se appena accennata grazie agli indici leggermente in rilievo a prima vista sembrerebbe grazie al materiale luminescente invece così non è non è presente sugli indici che in assenza di luce non ci restituiscono alcun effetto luminoso sono però sufficienti le sfere per intuire a grandi linee l'orario curioso che anche l'hollipop della sfera secondo e sia illuminato forse per evidenziare il corretto funzionamento al buio tasto dolente come sempre il bracciale in acciaio siamo abituati alla bassa qualità sui 6q5 e qui il discorso non cambia volendo essere magnanimi si può dire che è fatto proprio come li facevano un tempo per cercare di riprodurre l'effetto vintage ma è una forzatura che preferirei evitare le maglie non sono in acciaio pieno ma ripiegate su se stesse così come i finali sono in lamierino ripiegato nonostante ciò devo dire che sono ben adesi alla cassa e non presentano alcun gioco probabilmente comparirà al primo smontaggio e di montaggio ci sta vorrei poi sottolineare quel piccolo segneto presente su ogni aletta che è il frutto della lavorazione meccanica della piegatrice continuando sulla stessa falsa riga anche la cerniera della chiusura è sottile e realizzata per stampaggio ma sto bracciale qualcosa di positivo ce l'avrà certo è sicuramente bello a vedersi e comodo da indossare il semi giubilì è sempre attraente e con la sua flessibilità avvolge il polso come un guanto in conclusione cosa dire in pratica è un orologio che continua la saga dei seiko 5 sotto un altro nome sotto il nome di una sussidiaria di seiko se siamo riusciti ad apprezzare i primi non vedo perché non apprezzare anche questi d'altronde il prezzo di vendita è più o meno lo stesso e l'estetica è piacevole vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale